Pezzi di vita Ciao a tutti, sono una ragazza madre della comunità Luna Stellata e voglio raccontarvi dei pezzi della mia vita. Ricordo quella bambina come se fosse ieri. Ricordo ancora quella sua timidezza, la sua gentilezza nel chiedere ogni minima cosa, ma ricordo ancora anche le sue paure, che ad oggi sono diventate quasi cicatrici. Ha ancora qualche ferita aperta. Ricordo il suo sentirsi così diversa da ogni cosa che la circondava, il non essere vista in modo giusto ma in negativo dagli altri bambini la faceva stare così male che per allontanarsi e anche abituarsi a quel dolore si distraeva stando con gli animali. Aveva una complicità speciale con loro. Con loro si sentiva giusta, amata, protetta. Da quei suoi cani, gatti, cavalli si rifugiava perché in loro sentiva quel calore che le persone che aveva vicino non le davano o forse non avevano tempo, chissà. Gli animali erano i suoi amici. Lei, cioè io, ero così strana e buona anche con chi non lo era con me. Questa bambina iniziò a crescere troppo in fretta, accompagnata sempre dalle sue paure e dalle sue fragilità. Gli anni passavano così. Aveva un modo tutto suo di farsi capire dalla gente e se capivano, bene. Se non capivano, beh, non gli importava. E quella sua rabbia che si portava dietro cominciò a divorarle l'anima e il corpo e nella sua testa. A quel punto nacque il desiderio di sfogare il suo odio andando in discoteca, incontrando ragazzi, provando il gusto di provocarli e soprattutto cominciò a rifugiarsi nelle droghe e nell'alcol. Fu così che quella piccola bambina cresciuta in fretta lasciò gli animali che fino ad allora erano stati il suo rifugio per tutto questo. La prima droga provata fu la cannabis, poi l'anfetamina, poi l'LSD, eccetera. Ma quella di cui si innamorò più di ogni altra cosa, anche più della sua vita, un po' solitaria e vuota e fragile, fu l'eroina. Fu tutto così rapido, non gli importava più nulla nemmeno più della sua vita. Lei cambiò rapidamente. Come il tempo di un flash cambiò, così tanto che nemmeno i suoi familiari la conobbero più. Non era più quella bimba così timida che si nascondeva nei suoi silenzi, ma che era sempre stata gentile. Lei non fu più la stessa. Non chiedeva più niente a nessuno. Se voleva una cosa, se la prendeva. Era sempre nervosa e l'unica cosa che la faceva calmare era la sostanza. Non voleva più stare a casa con i suoi familiari. Lei voleva essere libera, non capendo che l'eroina non è la libertà, è avere delle manette. Continuava sempre a chiedersi cosa aveva che non andasse. Ma quelle manette la tennero legata per anni e non le diedero la possibilità di capire. La bloccarono del tutto fin quando un giorno quella ragazza diventò mamma. Era così felice. Era la cosa più bella che le fosse capitata nella vita nonostante negli ultimi mesi fosse ancora legata da quelle orrende manette. Lei decise di non lasciare il suo principe. Fu lì che io capì che la vera felicità, la vera vita, è donarla ad una parte di me, il mio bambino, Leo, che è la mia felicità. Un figlio ti dona la sua vita, la sua mano, i suoi sorrisi, la sua felicità, i suoi primi passi, la sua curiosità e il suo cercarti con gli occhi. Un figlio è una parte di te che terrai stretta stretta nel cuore, per mano e per la vita. Il suo nome è Leonardo, ti amo tanto, la tua mamma serena.